Ave, io mi chiamo Nenno Meiji, sono il duce e portavoce del movimento Unione Satanesi Italici questo video e questo movimento serve a diffondere e difendere la parola di Padre Satana e degli antichi dei che sono oscurati ma che ci hanno protetto per millenni chiaramente i primi che vedranno questo video rimarranno scandalizzati di fronte a un argomento così spinoso così purebito quale il satanismo, quindi vi prego di prestare molta molta attenzione Noi non siamo i criminali che ci dipingono la televisione, noi non siamo le bestie di Satana Ok, è stato un sacrificio animale ci può stare ma non è questo il punto Noi non siamo degli adolescenti ribelli che pensano che pare sia a Valenza, no Noi siamo coloro che su quarciano i valori di maglia e guardano oltre all'orizzonte Circa duemila anni fa c'è stato un golpe celeste Gli antichi dei che per millenni ci avevano guidato e protetto iniziarono ad essere spazzati via in nome di un dio violento che si proclama buono ma che ha costruito il suo regno sul terrore Noi siamo contro questo Io sono diventato satanista spirituale circa quattro anni fa Quando iniziai ad interessarmi alle divinità dell'antico vicino oriente Più leggevo di queste antichi dei, più li sentivo vicini a me Mi forma anche sui rituali, quindi a conoscenza del sacro rituale babilonese Decisi di praticarlo Dopo diverse sedute, una notte mi apparvero in sogno Satana, Marduk e Astarte Sto parlando della Sacra Triade Mi apparvero sotto forma di ombre e sussurri Mi parlano della nostra milenaria, delle ingiustizie a cui sono sottoposti Mi dissero di adorarli per trovare la luce Per prima cosa io cercai dei gruppi satanisti della mia zona Ma purtroppo erano tutti costituiti da adolescenti viziati Figli di papà che vogliono sentirsi anticonformisti No, a me non interessava quello Quindi decisi di formare un movimento tutto mio Dopo aver ingoiato molti pochi nei mani Dopo aver fatto i conti con i pregiudizi della gente Riuscire a donare una ventina in persone Era nata l'Unione Il nostro obiettivo è quello di riscattare l'umanità Dalle catene della falsa politica e della religione Noi diciamo no alla masoneria Noi diciamo no alla politica dei raccomandati di Latri Noi diciamo no alla Chiesa Noi diciamo no alla politica che è razzista contro gli italiani Non contro i negri Noi diciamo no a Dio che permette tutto questo Dice no no a Dio Noi ci ribelliamo con il suo sistema che gli dà potere pregando Noi puntiamo alla liberazione dell'uomo attraverso la meditazione e la sessualità Pertroppo tempo la sessualità è stata vista come una causa di morale da tenere nascosto E non come una via per la trascendenza Noi vogliamo raggiungere una dimensione eterea Che un tempo era nostra E che ora ci è preclusa Siamo anche su Facebook Appunto per diffondere meglio in tutta Italia Magari in tutto il mondo La nostra verità Il link lo vedrete in sovrimpressione Iscrivetevi Informatevi E ricordate Che come Padre Satana Sempre se l'ho dato Non può riprendere il Trono Celeste Che gli spetta Senza il nostro aiuto Noi non possiamo riprenderci la nostra vita La nostra libertà Senza informarci Grazie di tutto Avevobis